buongiorno a tutti ragazzi oggi per pranzo sto preparando la pasta con i ricci con la polpa dei ricci ora vi faccio vedere ovviamente non a tutti piace abbiamo le bavette in realtà servirebbero le linguine aglio prezzemolo questa è la polpa dei ricci direttamente da civita vecchia viene e poi qua ci metto l'anduglia invece del peperoncino che bella piccante almeno abbiamo tutto vedete raga questa è tutta polpa dei ricci spettacolo l'acqua bolle mettiamo intanto il sale sui spaghetti olio mettiamo l'aio col prezzemolo poi mettiamo subito la polpa la questa è l'acqueta della polpa dei ricci dobbiamo mettere la mettiamo subito prima che soffrigge l'acqueta poi mettiamo l'anduglia un pochettino anduglia ecco qui raga aspettiamo che che si cuoce la pasta e poi la facciamo fare finire qui guardate che delizia raga guardate che delizia qua e questo ragazzi alla fine messo sul piatto tutta con la polpa del prezzemolo andiamo ad assaggio buon appetito a tutti riccio la polpa buona devo dire che è venuta è venuta proprio bene è la prima volta che la preparo e più che soddisfatto raga buon pranzo a tutti ditemi che ne pensate